Il principe William ha elogiato le soluzioni offerte dai concorrenti dell'Hertshot Prize prima della cerimonia di premiazione. L'evento, che si svolgerà ogni anno dal 2021 al 2030, cerca di trovare progressi tecnologici per affrontare il cambiamento climatico. Il progetto da 50 milioni di sterline del Duca di Cambridge celebrerà la sua prima cerimonia di premiazione all'Alexandra Palace di Londra il 17 ottobre. L'evento sarà trasmesso su BBC One e trasmesso in televisione in altri paesi. Gli organizzatori hanno affermato che la cerimonia includerà alcuni dei principali artisti del mondo, tutti impegnati a riparare il nostro pianeta. Punto. Il Duca apparirà in un trailer per l'evento mostrato a Piccadilly Circus nel centro di Londra alle 8 di oggi. Nel video, William dice. Unisciti a me per i primi Hertshot Prize Awards. Dove sveleremo 5 vincitori di premi globali e le loro soluzioni rivoluzionarie per riparare il nostro pianeta. Il 17 ottobre. Qui a Londra. Il nome del progetto reale è stato ispirato dal programma spaziale Moonshot dell'ex presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy. Il programma degli anni 60 ha cercato di supportare i risultati tecnologici utilizzati per la ricerca spaziale. L'Hertshot Prize del principe William includerà 5 categorie. Ogni categoria avrà un vincitore, che riceverà un milione di sterline per lo sviluppo della sua tecnologia. A proposito della cerimonia, il Duca ha dichiarato. Ospitando la conferenza COP26 a Glasgow poche settimane dopo i nostri premi inaugurali, il Regno Unito sta aiutando il mondo ad affrontare il cambiamento climatico. Londra è un luogo fantastico per mostrare questa leadership, mettere in luce i finalisti e premiare i nostri primissimi vincitori dell'Hertshot Prize. Il principe William è stato a lungo un sostenitore schietto per affrontare le questioni ambientali. Quando ha lanciato Earthshot l'anno scorso ha detto che è mia responsabilità aiutare ad affrontare il cambiamento climatico. Ha detto a BBC Radio 400 che in questo momento è una mia responsabilità e ha aggiunto che il mondo è a un punto di svolta. Grazie a tutti.